Buongiorno, sono Veronica Panigutti, sono una commercialista e insieme alla dottoressa Patrizia Venuti gestisco la .com SRL a Codroipo, in provincia di Udine. Siamo una società di servizi che si occupa di servizi amministrativi e contabili e nel nostro organico abbiamo quattro dipendenti e due collaboratori. Da circa tre mesi utilizziamo Tuepi con regolarità e devo dire che abbiamo notato un notevole miglioramento nell'efficienza e nella gestione dello studio, delle mail, dei contatti e del lavoro stesso. Difatti Tuepi ci permette una migliore organizzazione del lavoro innanzitutto permettendoci di sostituire una serie di programmi diversi riunendoli in un unico software appunto quindi i vari software di invio e trasmissione delle mail piuttosto che liste Excel con i contatti o liste di lavoro varie. In un unico programma ritroviamo diverse funzionalità tutte fondamentali per il nostro studio innanzitutto è fondamentale appunto la gestione delle mail ma anche una rubrica con tutti i contatti di studio gli incarichi e quindi l'affidamento dei lavori personali e al nostro staff ma anche checklist di lavoro, pratiche e progetti vari. Diciamo che Tuepi come software è molto semplice, molto intuitivo e quindi per tutto il nostro team è stato facile iniziare a utilizzarlo anche se, devo dire la verità, Tuepi ha molte potenzialità e molti sviluppi che ancora stiamo cercando di imparare e di implementare nel lavoro. Diciamo che ci ha permesso comunque di avere un maggiore spazio di archiviazione sicuramente poiché non utilizzando mail internamente ma scambiandoci note e quindi discussioni interne sicuramente ritroviamo un miglioramento poiché risparmiamo un notevole spazio anche poi per le comunicazioni interne che prima avvenivano via mail. Nel nostro lavoro è sicuramente fondamentale la gestione delle scadenze in relazione a tutti i vari dichiarativi dell'anno per cui Tuepi in questo è un validissimo alleato attraverso gli incarichi, appunto, ripeto sia personali che dello staff riusciamo ad arrivare preparati alle varie scadenze e gestire le pratiche in maniera più efficiente. La stessa gestione delle pratiche ancora in fase di utilizzo e di potenziamento è molto utile poiché ci permette di gestire su Tuepi le varie pratiche del cliente o del periodo di scadenza archiviando anche i documenti che riceviamo via mail o che ci scambiamo internamente. Tuepi in questo è una realtà unica e molto completa quindi è uno strumento che è diventato sicuramente giornalmente e più che giornalmente utilizzato nel nostro lavoro un punto di forza ulteriore, a mio vedere, è l'app integrata poiché attraverso l'app, anche quando siamo fuori studio riusciamo ad avere un controllo delle mail, un controllo dell'agenda anche degli appuntamenti che magari ci vengono fissati dallo studio ed un monitoraggio degli incarichi e delle pratiche da svolgere durante la giornata.